La Sassari del basket si risveglia e si ritrova in Lega A. Non è un sogno, non esiste la paura del risveglio, che anzi è magico, quasi non esistesse né ci sia stato di mezzo il buio. La Dinamo Banco di Sardegna-Sassari chiude con vittoria la serie di finale play-off di Lega 2 davanti a 5.000 cuori che per 40 minuti hanno pulsato all'unisono. Vero li crolla, sotto i colpi bianco-blu, 99-78, l'arrembaggio è incalzante, c'è spazio per tutti e tutti, firmano il successo, è la stagione intera. Il dia del partito è una remuntada fallita per i giallorossi, azzannati sul parquet sassarese da una Dinamo che non ha nessuna intenzione di scherzare e c'entra il bersaglio. Fanuzzo è immenso, capitano di nome e di fatto, Camp timbra il solito cartellino, Ro chiude in crescendo, De Vecchi è presente, Binetti prezioso, Ubal è castroso, Conti solido, Baldassarre energico, Colombo giovane ma già protagonista, manca il primo sassarese a salire in lega con la Dinamo. E poi la meritata felicità di Meo Sacchetti e del suo staff, quella della famiglia Mele, quella di un palasserra di Migni che riversa la sua incontenibile gioia sul parquet a fine gara, che scatena una festa coinvolgente destinata a durare sino all'alba, perché a Sassari ieri si è scritta la storia che dal 1960 ad oggi ha raccontato lacrime e traguardi tagliati, che ora, per la prima volta, vive una realtà che non è sogno ma si chiama Lega A. Cosa e come sarà per adesso è impossibile dirlo, la Dinamo Banco di Sardegna alza al cielo il trofeo di Lega 2 e fa mattina con la Coppa. Sono cose che non succedono, come in tanti hanno detto e scritto, nelle ultime settimane, ma se succedono cambiano il volto delle cose e fanno impazzire una città che sembra essere già pronta alla sfida.